Ciao ragazzi, oggi siamo in compagnia di un prodotto molto utile per tutti i possessori di nuovi MacBook o dispositivi dotati di porte USB-C. Si tratta del modello GN30H prodotto da CapCock ed è un adattatore USB di ottima qualità. Andiamo a scoprire il contenuto della confezione. All'interno troviamo l'adattatore, fornito poi di manualetto di istruzioni in lingua italiana e una comoda pochette per trasportarlo. Il prodotto è costruito interamente in metallo, disponibile nelle colorazioni silver, gold, rose gold o space clay, ad un prezzo di 79,90€ su Amazon, a un peso di 60 grammi. Si collega al vostro MacBook tramite il cavo USB-C di buona fattura e permette di espanderne la dotazione di porte grazie a tre porte USB 3.0 presenti su questo lato, una porta HDMI full size, una porta Ethernet gigabit, una USB tipo C utilizzabile però soltanto per la ricarica, non per il trasferimento di dati, una porta che permette di leggere schede SD e lettore di micro SD. L'ho utilizzato per un certo periodo con un MacBook Pro 2016 e ho alcune considerazioni da fare. Innanzitutto il prodotto ha un bel design che dà continuità al vostro MacBook, grazie alle colorazioni disponibili nei colori dei prodotti Apple. Tutte le porte funzionano correttamente, alla loro massima velocità disponibile. Quindi l'adattatore non fa da collo di bottiglia, tuttavia durante un periodo medio di utilizzo, quindi dai 10 minuti in poi circa di utilizzo, l'adattatore si scalda parecchio, quindi consiglio di utilizzarlo solo per periodi medio-brevi. Ho un appunto da fare anche sulla compatibilità con altri dispositivi. Questo adattatore è stato progettato per funzionare correttamente sui MacBook di Apple e pochi altri dispositivi. Ad esempio su Asus ZenBook 3, Dell XPS 13 2 in 1 e sugli smartphone ad esempio, non è garantita la compatibilità. Infine riguardo il costo, nonostante la buona qualità ed il fatto che attualmente l'adattatore è in offerta, il prezzo rimane forse troppo alto rispetto alla concorrenza. Quindi in conclusione mi sento di consigliare questo hub alla nicchia particolare di utenti che cercano una soluzione di stile per espandere la dotazione di porte del proprio MacBook, magari però durante una ulteriore promozione proposta dal venditore. Per questa recensione è tutto ragazzi, arrivederci al prossimo video.